Buongiorno, come state? Qualche giorno fa mi era presa l'ispirazione di realizzare un video, però mi sono detto, ma no, aspettiamo, ho perso l'ispirazione e quel video è sparito. Poco fa però stavo leggendo e mi è tornata l'ispirazione e questa volta ho pensato, non me la farò scappare. Sto leggendo Fiducia in se stessi, Ralph Waldo Emerson. È un libro pubblicato da Piano B. Che dire, è un libro bellissimo, che infonde tanto coraggio. Tanto coraggio di essere se stessi e di seguire i propri istinti, le proprie passioni, i propri interessi. È una lettura che consiglio, perché appunto, come dicevo, infonde coraggio. Vi leggo queste righe, bellissime, che parlano del lavoro, delle iniziative professionali, del destino che un giovane prova a costruirsi. È un tema a cui sono molto legato in questo periodo, a maggior ragione dopo aver interrotto il mio tirocinio, come sanno le persone che mi conoscono. E peraltro è un tema di cui ho discusso molto con amici e conoscenti nelle ultime settimane. Il tema del lavoro, del cosa fare nella vita, del rapporto tra tempo libero e lavoro. C'è la grande retorica, no? Che vuole che chi fa il lavoro dei suoi sogni non lavorerà mai, neanche un solo giorno, appunto perché lavoro e passione coincideranno. Ecco, di questo tema ho discusso molto e magari nelle prossime puntate avrò modo di approfondirlo. Quindi questo per dirvi che è un tema che ho affrontato da vari punti di vista con varie persone ed è un tema evidentemente decisivo per me e per le persone che hanno grosso modo la mia età, ma poi in realtà un po' per tutti. E allora vi leggo queste righe di Emerson davvero bellissime. Se i nostri giovani sbagliano in qualche loro prima iniziativa, perdono immediatamente coraggio. Quante volte capita e quante volte anche mi è capitato, no? Di provare a fare qualcosa, non riuscirci e perdere coraggio. Direano ma non ce la posso fare. E quante volte è magari capitato anche a voi in ogni ambito, non solo a livello professionale, a livello relazionale, a livello scolastico, a livello sportivo. Uno si arrende, no? Se il giovane mercante fallisce, la gente dice che è rovinato. Ecco il giudizio degli altri. Se il più brillante ingegno studia in una delle nostre università e l'anno successivo non si è ancora sistemato in un ufficio al centro o nei sobborghi di Boston o di New York, sembrerà agli amici e a lui stesso che ci siano buoni motivi per scoraggiarsi e compiangersi per il resto della vita. Uno si laurea e poi l'ambizione, no? L'ambizione che deriva dal nostro interno, comunque che interiorizziamo anche dal contesto esterno. Ecco, quell'ambizione lì si va a scontrare contro la nuda realtà delle cose e uno si vergogna, si rimpicciolisce, dice Oh no, ma quindi? Ma quindi? Cos'era quella grande aura? Non c'è più, ora è solo questa ombra, ora c'è il baratro. Sembrerà agli amici e a lui stesso. Ecco, agli amici e a lui stesso. Perché poi alla fine interiorizziamo il giudizio degli altri. O meglio, crediamo che gli altri possano pensare certe cose e ci autocruciamo, ci autocrucifiggiamo. Sembrerà agli amici e a lui stesso che ci siano buoni motivi per scoraggiarsi, Ma come? Non sei ancora arrivato da nessuna parte. Ma come? Hai 30 anni, hai 40 anni e ancora non sai che fare della tua vita. E compiangersi per il resto della vita. Ecco qui, Emerson introduce la contrapposizione. Un risoluto giovanotto del New Hampshire o del Vermont che tenta un po' via via tutte le attività. Cioè uno che boh, ci prova, si butta nella vita. Non è che abbia magari una qualche destinazione attacca il cavallo, coltiva e vende, apre una scuola, fa il predicatore, le prova un po' tutte, dirige un giornale, si fa eleggere deputato, si compra una cittadinanza e così via, cade sempre in piedi come un gatto e vale almeno 100 di certi belli imbusti di città. I belli imbusti chi sono? Quelli che appunto sanno cosa fare, o meglio, pretendono di avere una strada predefinita, no? Il liceo classico, l'università, poi la professione, però poi la professione non arriva e uno si dispera perché dice, ma come, ma gli anni passati, che ho buttati? E invece no, dice Emerson, molto meglio questo, un giovanotto che prova una via, prova l'altra, ma è sempre nel presente, è sempre lì però pienamente speranzoso, pienamente attivo in quello che fa. Questi cade sempre in piedi come un gatto, non si scoraggia mai perché non ha il grande progetto, cerca sempre di fare quello che gli sembra la cosa migliore, no? Nella congiuntura in cui si trova, prova una via, e cerca sempre di fare la cosa che gli piace di più, comunque la cosa che le circostanze lo portano a fare. Ci prova e poi non ce la fa, vabbè, però, con un nuovo spirito di intraprendenza si butta altrove, coltiva e vende, apre una scuola, fa il predicatore, dirige un giornale, poi si butta in politica, e così. Quel giovanotto procede con il passo dei suoi giorni, non procede con il passo dei giorni degli altri, non è che pensa di avere, ah, cinque anni per laurearsi, poi tre per trovare un lavoro, no, procede a suo ritmo, e non prova nessuna vergogna per non aver studiato una professione, poiché egli non posticipa la sua vita, ma la vive già, ecco questo. Egli non posticipa la sua vita, ma la vive già, e quante volte anche a me è capitato di posticipare la vita, no? di dire, ah, ma per fare questa cosa, però mi serve quel titolo, e mi serve quella conoscenza, e invece no, è già in atto la nostra vita, e cerchiamo di sfruttare il fatto che abbiamo già potenzialità qui. Egli non posticipa la sua vita, ma la vive già. Egli non ha solo una possibilità, quella di diventare medico, avvocato, filosofo, insegnante, ma centinaia. Egli non ha una sola possibilità, ma centinaia. E allora, dice Emerson, che uno stoico sveli all'uomo le sue risorse, che dica agli uomini, ah, è che passo bellissimo anche qui, che dica agli uomini che essi non sono vecchi salici bisognosi di sostegno, ma che possono e devono far da sé. Non abbiamo bisogno di sostegno, e invece no, uno che cerca sempre il sostegno dell'istituzione, e dell'università, e della casa editrice, e dell'azienda. Poi, cioè, è chiaro che il discorso a livello pratico non è facile, anche perché le condizioni in cui ogni individuo si trova sono diverse. Però, che bello questo messaggio. Essi non sono vecchi salici, ecco, bisognosi di sostegno, ma che possono e devono far da sé. Possono soprattutto. E poi anche qui. E che con l'esercizio della fiducia in se stessi, perché un esercizio? Perché non è che uno nasce con la fiducia infusa. Come si costruisce questa fiducia? È attraverso un percorso, e quindi è anche attraverso un percorso che uno magari la può recuperare, la fiducia. Però è una pratica costante, perché poi quello che siamo è una piega, è l'abitudine, e a forza di abituarci a non credere in noi stessi, è chiaro che poi ci sono delle conseguenze. Se invece uno prova a crederci e prova a fare delle piccole cose, poi quelle piccole cose magari riescono e poi si va avanti così. che con l'esercizio della fiducia in se stessi nuovi poteri compariranno. Poteri che l'individuo pensava di non avere. Perché non è che uno non abbia poteri in assoluto. Uno ha anche i poteri che pensa di poter avere. E quanto è vera questa cosa? Che un uomo è il verbo fatto carne. E qui Emerson cita il libro della rivelazione di Giovanni. Ora, chissà il verbo, no? Però, che un uomo è il verbo fatto carne. Il verbo. E cos'è questo verbo? Eh, sono le parole. Le parole che gli altri ci ripetevano, ci ripetono, che abbiamo interiorizzato e che poi noi ripetiamo continuamente a noi stessi. perché pensiamo che siano quelle che meglio ci descrivono. E poi finiamo per diventare quello che le nostre parole ci fanno diventare. Invece, se uno prova a cambiare, magari le cose cambiano, perché la nostra carne è intrinsecamente verbo, parola, pensiero. Nato per diffondere guarigione e salute per le nazioni. Che deve vergognarsi della nostra compassione e che nel momento in cui egli agirà da individuo, gettando via leggi, libri, idolatrie e convenzioni, non proveremo più pena per lui, ma gratitudine e rispetto, poiché un tale maestro restituirà la vita dell'uomo al suo splendore e renderà il suo nome caro alla storia universale. Ecco, che parole magniloquenti, che magari potrebbero anche imbarazzare alcuni, me ne rendo perfettamente conto, però, che messaggio, cioè, davvero, spero di avervi trasmesso l'entusiasmo che Emerson ha trasmesso a me e fatemi sapere cosa ne pensate di questo argomento, fatemi sapere se avete letto il libro, fatemi sapere. Per il resto, una buona domenica. Io sono un po' sbarbato, neanche mi riconosco più, però, alla prossima. Ciao.